ragazzi ci siamo ci siamo finalmente è arrivato il momento di mostrarvi i frutti del nostro lavoro ci ha voluto un po ma neanche così tanto perché abbiamo lasciato molto la costruzione di tutto quanto e dovete sapere che la mia idea iniziale era quella di fare un video di making of diciamo così ma c'è stato subito chiaro che forse era il caso di concentrarci sulla costruzione vera e propria e stare ogni volta uno di noi a fare un sacco di riprese non sarebbe stato molto produttivo quindi diciamo che ho deciso di fare adesso un video per mostrarvi bene il nuovo studio ok ma non solo il nuovo studio su cui abbiamo lavorato in questi giorni anche il progetto in maniera un pochettino più completa quindi aspettatevi un vlog bello ricco prestate attenzione mettetevi comodi perché diciamo che si comincia e cominciamo proprio da una panoramica del nuovo studio in maniera un pochettino ed eccoci qua ragazzi questo è il nuovo studio spero che abbiate visto una bella carrellata di immagine continuerà ancora questo è quello su cui abbiamo lavorato negli ultimi giorni e devo dire che sono molto contento di come è venuto fuori o sia chiaro non è niente di poi così speciale abbiamo fatto il meglio che potevamo con quello che avevamo dal punto di vista di cose dal punto di vista di budget già e ci sono tante cose che ancora vanno messe a posto tante altre idee che abbiamo potuto sviluppare proprio appieno però nel futuro questo posto migliorerà ancora diciamo così ma non è solo un fatto estetico ragazzi e questo lavoro nel nuovo studio l'ho voluto fare per due ragioni principali ve ne ho già un pochettino parlato però è il caso di parlarne un pochettino meglio la prima è senz'altro estetica ma più a che vedere con la qualità di quello che vi offrirò questo studio ha ora le possibilità di avere una bella inquadratura in tantissimi punti diversi perciò posso variare l'inquadratura che userò per i vari video potrò variare molto anche come vengono disposte le cose e ogni spazio è pensato molto di più per il suo reale utilizzo per lo meno per adesso ovviamente al netto di alcuni piccoli cambiamenti che potranno esserci nel futuro come anche normale che sia e quindi è una cosa funzionale ma che vuole fare il salto di qualità di fatto è quello che sto cercando di fare ragazzi è portare il canale i canali il mio progetto a un livello superiore non è solo un fattore estetico ma è un insieme di cui l'estetica fa parte ma non è assolutamente l'unica componente la seconda ragione per cui ho voluto far evolvere lo studio è che abbiamo organizzato lo spazio in maniera migliore per lavorarci in tre qui almeno in tre perché come forse vi ho già detto già all'Oesì i miei due collaboratori verranno a stare qui un pochettino più spesso ok e lavoreremo insieme ai contenuti e tantissime altre cose quindi diventa un vero e proprio team è come se stessimo facendo una sorta di start up ragazzi con tutte le migliori intenzioni del caso ovviamente tante altre cose devono essere definite per carità è lungo il cammino da fare però stiamo cercando di lavorare molto meglio come team ok quindi ognuno avrà il suo spazio ognuno avrà i suoi compiti diciamo e cominceremo davvero a fare qualcosa anche da questo punto di vista di livello superiore ok ma ora c'è una seconda parte di questo video dopo avervi mostrato lo studio dopo avermi avervi indicato quali sono i punti di forza se vogliamo su cui sto cercando di lavorare e quelli che non andavano tanto bene che sto cercando di migliorare perché non siano più dei punti deboli c'è una cosa di cui vi devo parlare quello di cui voglio parlarvi in questa seconda parte del video è una cosa di cui parleremo ancora ovviamente ma voglio per la prima volta spiegarvi in maniera organica qual è il mio intero progetto su youtube se vogliamo molti di voi arriveranno probabilmente dal canale di gaming che è quello diciamo un pochettino più vivo più attivo con una community più grande ma le cose evolveranno molto nel futuro ragazzi perché fin dal primo momento in cui mi sono messo a fare dei contenuti su youtube io ho sempre voluto fare tante cose diverse perché io sono fatto così ho tanti interessi e mi piace rendere partecipe l'utenza di tutte queste cose creare contenuti più più svariati possibili ok ovviamente con intenzioni diverse a seconda del tipo di contenuti però mi piace molto questa idea di avere molte sfaccettature quindi il canale di gaming e quello in cui vi trovate ora che è crystal cross diary è soltanto una parte del progetto vero e proprio e adesso ve ne vado a parlare un pochettino meglio la mia attività è una sorta di ventaglio di cose e volendo andare in ordine diciamo c'è ovviamente il canale che è crystal cross gaming con anche il secondo canale che è crystal cross gaming box il il canale twitch che è l'insieme che ha a che fare con il gaming perché è una delle mie passioni ovviamente i videogiochi lo sono sempre stati perciò ho voluto portarvi questa passione in un suo slot dedicato che è lo slot di gaming appunto in questo canale faccio gameplay recensioni dei proviamolo delle dei vlog dei contenuti più un pochettino più cazzoni se vogliamo delle cose più ironiche ma più pensate delle canzoni anche quindi è una programmazione molto variegata molto diciamo concentrata sulla quantità e anche sulla qualità perlomeno si spera e però ha sempre a che fare con il mondo del gaming un altro canale che è quello in cui vi trovate adesso che è crystal cross diary è un canale personale in cui ci sono principalmente dei vlog che parlano di me della mia attività dei periodi che sto passando insomma ci sono dei vari temi ma è un canale veramente personale che intendo lasciare personale e magari soltanto in un futuro diciamo migliorare con dei contenuti un pochettino più broadband cioè un pochettino più incentrati sulla mia attività in generale e non focalizzati su una cosa specifica perché ci sono gli altri canali per questo ok quindi vedetelo questo come un canale personale in cui vi mostro la mia attività vi parlo un pochettino di me di tante cose quindi recuperate qualche video qui sul canale perché vi dà un'idea molto migliore di che cosa in realtà si tratta poi c'è un altro canale che ho recentemente riaperto che si chiama semplicemente crystal cross ed è un canale musicale in cui io suono sostanzialmente è un canale musicale nel senso da musicista di uno che la musica la vive anche suonandola ovviamente un po' perché è passato del tempo un po' perché la mia professione e adesso ne parliamo mi ha fatto concentrare più sull'aspetto tecnico e su altre cose ovviamente non sono quel gran musicista che uno potrebbe pensare però gli anni di esperienza mi hanno portato ad avere una certa consapevolezza del panorama musicale eccetera e ho sempre amato suonare ovviamente quindi su quel canale trovate dei video in cui suono ok trovate dei video in cui suono la batteria dei video in cui canto in futuro qualche altro strumentino anche se riesco a trovare diciamo il tempo di rimettermici un po' sopra perché sono decisamente arrugginito e ci sono gli strumenti che non ho mai saputo realmente suonare ma che mi piacerebbe approfondire ed è forse il canale che verrà rivoluzionato di più da questo salto di qualità perché cambierà completamente lo stile con cui faccio i video su quel canale che sono sostanzialmente almeno per questa prima fase delle cover di brani ma in futuro ci saranno molte altre cose ok tenete d'occhio questo canale se vi piace il genere se vi piace la musica perché potreste vedere tante belle cosettine e poi non posso non parlare dell'altro mio canale che è Crystal Cross Music Production che ha a che fare invece con quella che è di fatto la mia professione quella un pochettino più stabile se vogliamo il mio lavoro attuale che è quello di tecnico del suono qui in questo canale parlerò di musica certamente di audio ma in termini più tecnici se vogliamo può essere utile anche a chi è curioso a chi si occupa magari di video a chi si occupa di musica o chi semplicemente vuole avere una diciamo una certa infarinata di questo mondo ma principalmente questo è un canale assolutamente tecnico e io credo che le persone che più ne possano godere sono dei colleghi credo delle persone che magari sono interessati alla materia che magari ancora non hanno iniziato anzi c'è appunto un corso di audio engineering per esempio sul sul canale insieme a tanti altri contenuti che qualcosa già c'è e sono dei vlog delle recensioni tante cose che però riguardano il mondo dell'audio professionale d'accordo questo canale verrà riattivato a breve ragazzi quindi se vi interessa il tema andatevi a iscrivere e tenetelo d'occhio perché vedrete anche qui delle gran belle cosine e sì per chi me l'ha chiesto più volte in questi mesi quindi se vogliamo forse anche un annetto in cui quel canale è rimasto fermo sì il corso di audio engineering non è finito e assolutamente continuerà restaurerò anche i video precedenti per così dire però insomma assolutamente continuerò il lavoro che ho iniziato e per finire ragazzi c'è il canale anzi potrei dire i canali di politica perché un secondo canale lo vorrò aprire immediatamente per certe ragioni che adesso vi dirò e questo canale ovviamente parla di politica la politica è una delle mie passioni e da quando ho 14 anni che me ne occupo, me ne interesso, mi piace molto parlare di politica ok? questo è un canale che rimarrà un pochettino più a sé stante se vogliamo perché la natura del canale di politica è tale per cui effettivamente voglio tenerlo separato da tutto il resto delle attività questo è un genere di tematica che tende a essere molto divisiva e io non sono certo uno neutrale ho delle idee ben precise riguardo certe cose e preferisco lasciarle da una parte e non coinvolgere la restante utenza degli altri canali in questo canale di politica più di tanto semplicemente perché voglio che le persone che veramente sono interessate a questo argomento lo vadano a diciamo ad approfondire un pochettino ma sappiate che sostanzialmente sul primo canale che è Crystal Cross Politics troverete dei video in futuro intanto tabula rasa di video esistenti che credo di aver già fatto per quando pubblico questo video quindi troverete sostanzialmente un canale vuoto almeno credo forse salverò qualcosa ma non è affatto detto e questo sarà il canale di video più curati che dopo ricerche, dopo una certa consapevolezza del tema io parlerò in maniera più approfondita saranno video più elaborati su certi temi di attualità o meno mentre il secondo canale che è Crystal Cross Politics 2 forse gli darò un nome un pochettino più creativo ancora non è stato aperto ma lo sarà molto presto anche questo probabilmente verso settembre comunque una cosa del genere mese in cui ho intenzione di riaprire i canali di politica se vogliamo e aprire il secondo canale vabbè avete capito saranno video invece molto più frequenti quasi giornalieri ma sull'attualità, sulle ultime cose sulle ultime cose interessanti saranno dei video molto più sbrigativi dei vlog in cui si leggeranno un pochettino magari un articolo oppure si commenterà un video oppure si commenterà un fatto del giorno insomma delle cose molto più sbrigative molto più semplici in cui si chiacchiera di attualità e non molto altro se vogliamo ok? mentre nel primo canale i contenuti sono molto più approfonditi ok? e questo è un po' l'universo del canale di politica ce n'è un altro che vi ho già menzionato una volta che però ancora non esiste se vogliamo e sarà un canale molto più leggero è dedicato a cose molto più come dire vabbè delle minchiate ragazzi delle minchiate vere e proprie e ve ne ho già parlato ma il canale ancora non esiste verrà aperto fra un pochettino dopo aver trovato la routine con tutti questi altri ok? ora voglio concludere questo vlog rispondendo a una domanda una considerazione che quasi sicuramente avete nella vostra testa ma tutta questa roba come fai a portarla avanti? bene ragazzi voglio assolutamente farlo questo come vi ho già detto altre volte il 2020 voglio che sia l'anno in cui veramente cerco di fare un passo oltre quello che stavo facendo e realizzare veramente al 100% quello che voglio fare sulla piattaforma ok? sulle piattaforme se vogliamo è una cosa per me molto importante col passare degli anni mi sono accorto che lo è diventata sempre di più la possibilità che youtube dà di esprimersi con anche dei contro avremo modo di parlarne per carità probabilmente qui sul canale di Diary è un buon contenuto per questo canale è bellissima comunque questa possibilità e voglio esprimere me stesso al 100% io non sono un tipo che si accontenta di un solo tema non sono un tipo che si accontenta di un solo ambito e ho sempre voluto fare tante cose insieme perciò ragazzi è un qualcosa a cui tengo particolarmente e questo ventaglio di canali questo ventaglio di temi è per me di estrema importanza perché mi rappresenta proprio rappresenta quello che io sono e quello che voglio fare quello che intendo comunicare a voi da più punti di vista ovviamente non tutti sono interessati a tutti questi temi e va benissimo così ed è il motivo per cui esistono dei diversi canali magari a uno interessano i videogiochi ma non gli interessa la politica magari a uno interessa la musica ma non gli interessa l'audio professionale invece magari a qualcuno interessa l'audio professionale ma non i videogiochi ok magari a qualcuno interessano più cose tranne una oppure anche tutte quante ovviamente però questa sarà un'attività per me molto seria quest'anno come vi ho detto voglio fare il passo il nuovo studio lo dimostra non solo dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista funzionale se vogliamo e voglio essere più presente voglio che la mia presenza il mio modo di comunicare il mio modo di creare contenuti faccia veramente un passo avanti e voglio ricordare questo anno come quello in cui veramente qualcosa è cambiato ok e non sto parlando della necessariamente della risposta dell'utenza anche se spero veramente che ci sia come è ovvio però parlo del essere soddisfatto io della qualità della varietà e della quantità di cose offerte voglio che questo sia veramente un piccolo universo in cui tante cose possono essere create tante cose possono essere viste tantissime possono essere le opportunità di creare delle community interessanti dei discorsi interessanti e del bel intrattenimento o della bella informazione o dettagli tecnici utili per chi sta cercando delle determinate cose magari e non soltanto intrattenimento o discussione quindi tante cose insieme ragazzi questo è davvero il mio universo questo è davvero ciò che io desidero fare e se tutto questo dovesse andare bene io ci posso mettere la firma ragazzi se riesco davvero in questa impresa perché dannazione è un'impresa questa qui penso che sarà davvero il raggiungimento di un sogno ok un qualcosa che un po' di anni fa era soltanto una cosa abbastanza vaga ma che col passare degli anni mi è stata sempre più chiara cioè che io voglio fare questo voglio davvero comunicare qualcosa voglio comunicare queste cose in questo universo di contenuti e voglio farlo nella maniera migliore possibile migliorandomi sempre di più e attirando sempre più utenza e che magari apprezza quello che c'è in questi canali veramente apprezza la mia persona e quello che questo team ormai perché si può parlare di un team sta creando qui sulla piattaforma d'accordo? un'ultimissima menzione è una cosa che mi hanno detto in tanti nel corso degli anni è che tutti i canali sono in italiano tranne uno che è Crystal Cross quello musicale questo è l'unico canale internazionale che ho è scritto in inglese ma sostanzialmente non c'è bisogno di mettere veramente una lingua in particolare perché è un canale musicale io in quel canale suono e canto è la musica in linguaggio universale perciò sarà anche un canale che è più aperto al mondo se vogliamo ok? quindi sarà un'utenza diversa molto probabilmente sarà un'utenza più internazionale ma anche quello è interessante ovviamente ci sarebbero tantissime altre cose da dire ragazzi su questi canali qua e non voglio dilungarmi troppo perché ci sarà modo di farlo nel mentre posso dirvi però che qui in descrizione trovate i link a tutti quanti i canali di cui ho parlato tranne le cose ovviamente più in divenire o le cose non ancora aperte come il futuro canale di cui vi parlerò e il secondo canale di Crystal Cross Politics che ancora devo aprire perché devo ancora strutturare bene il tutto d'accordo? credo che sia tutto ragazzi ora spero davvero che vi piaccia tutto questo spero davvero che vi piaccia il cambiamento che ho fatto e non solo dal punto di vista estetico ma spero che ci sia un salto di qualità questo è un vlog che ho voluto non scrivere all'inizio volevo scriverlo questo vlog qua per fare una cosa molto più precisa ma alla fine mi sono convinto a volerlo fare in maniera istintiva anche questo senza troppi tagli perché è un po' così che voglio portare avanti la mia attività non sarà sempre possibile alcuni video vanno assolutamente scritti perché è giusto che sia così però quando ce n'è la possibilità voglio parlare con voi direttamente a braccio perché credo che sia il modo migliore il modo che preferisco per rapportarmi con voi e credo che sia il modo per far trasparire di più quello che io voglio davvero dirvi e comunicarvi anche a pelle tra virgolette anche se si tratta di un video che state guardando tutto sommato questo è tutto ragazzi spero davvero che questo universo vi piaccia tutti i link sono qui sotto in descrizione nei vari canali ci sono tutti i link ai miei social eccetera è un universo ragazzi è un universo che adesso col passare del tempo verrà piano piano mostrato a tutti voi e andrà avanti ogni canale per la propria strada ma comunque con un certo tipo di connessione più o meno forte con tutte le altre attività che faccio d'accordo? bene ragazzi io vi ringrazio moltissimo per aver visto questo vlog spero che tutto questo vi piaccia lasciate un like ovviamente se tutto questo vi è piaciuto iscrivetevi al canale questo qui Crystal Cross Diary ma iscrivetevi anche agli altri canali che di nuovo trovate qui sotto in descrizione se vi interessa il tema che trattano e ci vediamo molto presto perché da domani ricominciano effettivamente le attività e mano a mano troverete tutti questi canali acquisire una nuova vita se vogliamo d'accordo? spero davvero che vi piaccia tutto questo e ci vediamo presto ragazzi aspettatevi delle belle cosette grazie a tutti